e mi fa carinetto e allora mi ha detto qualcosa io ho detto che la loro casa è solo questa allora io ho detto stasera non battere quando si riconosce i bambini li batte non battere perché non io le 11 comincio non Josu no perdita non no per non 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 è così è così